Una piccola distrazione durante la manutenzione ordinaria dell'acquario ed eccolo lì, quel curioso del mio pesce Tyrell era infilato sotto al tubo di aspirazione del filtro, proprio mentre lo stavo pulendo. Niente panico, ho organizzato subito una vaschetta di quarantena, disciolto del sale grosso in acqua e applicato tutte le sere per due settimane carpagelle sulla ferita. Sono molto soddisfatta dall'utilizzo di questo prodotto perché è assolutamente naturale e nel giro di due settimane la ferita si è completamente richiusa senza addirittura lasciare cicatrici ed eccolo qui che nuota nella sua vasca insieme ai suoi amichetti. Felice e spensierato!